Ecco, ma tanto per capire questo Ma cosa fate vedere le svastiche? Allora E' vero, Renetti non è entrato Non puoi spingere qua Vediamo se vuol giocare o no Eh, lui ha detto che vuole giocare Eh Se qui se non la Neletti sta entrando E anche i suoi amici, ok Stanno entrando tutti, ma Qui stiamo molto in difficoltà Siamo in sedici Avvio sessione Ora cerchiamo di prendere una bella macchina Prendo questo nero già scelto E ne affaccio Blu Perché Edo, ieri abbiamo provato Con un altro player A fare le gare stante Abbiamo visto che più o meno ci si diverte, capito? Quindi abbiamo replicato Vediamo che succede Ok 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 Siamo quasi pronti Io ho preso sempre la nero Mi prendo Guarda questi che macchine hanno Terza posizione Oddio Non ho fatto Spingerti Spingerti il colmone Ottava Ottava Settima Sono settimo io Questo come mi ha superato Oddio Tu Fumiamo Contra Tutto Sette Tutto E questo cosa cercare di fare? Nooo, ma questo bleffa! Nooo, e dai! Verga, ma questi bleffano! E' bruttissima sta gara! E' bruttissima! Ok, noi siamo in torna posizione! In ottava addirittura! Ma poi il War Raid lo so fare io il War Raid! Sette posizione! Nooo, ti ho detto che non lo dovevi fare! Nooo, ci hanno crashato a noi! Siamo ancora in gioco e stanno dicendo... In caccia! Nooo! Il War Raid li ho fatti bene! Bravo! Io sono in undicetti a posizione perché... Tutti quei bug è successo! Una cosa micidiale! Vedi Lidia e Emi! Vedi? E' un casino oggi! Un casino ragazzi! Un casino! Un casino! Diciamo che non sono proprio bug! Che sei uscito? Nooo! Io sono sesto ora! Sesto? Io sono undicetti! Eh, lo so immagino! Decima posizione! Decima posizione! Decima posizione! Decima posizione! Decima posizione! Tu sei in posizione più avanti di me! Quattro! 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 Ok! E lì stanno bleffando tantissimo! Lì in spiaggia! è sbagliato questo ha sbagliato ho sbagliato lei ho preso malissimo e sono in una posizione ma tu? Quinto e va bene Adam ma anche qui è proprio un casino qui vedo un sacco di add in giro è vero io nei tubi vado benissimo e anche nei vuoi ride io con la nero io con la nero guido benissimo ultimo giro sto io ottava posizione si che stanno da viaggiando stanno in 15 allora io ho finito la parte dei bilini li è blef li stanno blefando però non io avevo nemmeno un ostacolo nel primo guard ride c'è soltanto un jet bene 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 ok qui c'è soltanto un jet oh oh eh vabbè i dirigibili i dirigibili mi sono arrivati addosso io mi stavo facendo la mia strada e mi sono arrivati i dirigibili io sono arrivato eh vabbè io non sono i dirigibili oh è finito non riesco a finirlo perché ho fatto i quei dirigibili schifosi i quei dirigibili schifosi oh no no non riesco a finirlo mangia percato che stavano quei mag non c'è mai successo trovare dei giocatori così lo sai è vero ma se stavio